Nuove batterie con un'autonomia aumentata a 180 km, velocità di 85 km orari, nuovi interni con un computer di bordo più potente, telecamera per la retro, bluetooth e aria condizionata. E la nuova ZD2 è l'urban car elettrica prodotta in Cina dal gruppo italo-cinese CS, noto per il brand di car sharing Share & Go, che utilizza il modello precedente, la ZD1, con la caratteristica colorazione gialla e verde. Immatricolata come quadriciclo pesante, la ZD2 si può guidare a partire dai 16 anni e sarà in vendita sul mercato italiano al prezzo di 17.900 euro, mentre in un secondo momento sarà disponibile anche per il car sharing. L'obiettivo è di venderne dalle 500 alle 1000 unità all'anno, mentre allo studio l'ipotesi di avere la produzione anche in Italia, come ha spiegato la DDCS Group Emiliano Nicolai. Sicuramente è uno studio che stiamo facendo, la volontà anche della proprietà è quella di riuscire a portare parte della produzione in Italia e iniziare a portare un valore aggiunto anche in segno di riconoscimento del lavoro svolto dal team italiano. Particolarmente innovativa nel design e curata negli interni con sedili ergonomici rifiniti in pelle, la ZD2 è un telaio rinforzato che garantisce più protezione anche all'abitacolo e offre tutti i vantaggi delle auto elettriche. Accesso alle aree ZTL e free parking nelle aree di sosta blu e gialle. Grazie ad un adattatore la ZD2 si può ricaricare da qualunque presa, impiega circa 7 ore per una ricarica completa che costa meno di 2 euro.